dal 2020 al 2022 con una recrudescenza nell'ultimo anno dovuta al conflitto tra russia e ucraina si può tranquillamente tranquillamente si fa per dire parlare di una escalation di attacchi informatici soprattutto in europa che da sola può contare un quinto degli attacchi delle aggressioni subite nel mondo dove l'italia è stato il terzo paese europeo più colpito il quarto in scala globale assieme a stati uniti francia e germania l'agenzia dell'unione europea per la sicurezza informatica l'enisa appunto segnala questo aumento sostanziale le minacce alla sicurezza informatica per organizzazioni pubbliche e private in tutta l'unione europea per questo diventa cruciale per le aziende far sedere al tavolo delle decisioni easy iso ovvero il responsabile dell'information security aziendale mi chiamo renato mancini e sono consulente senior per la comunicazione di soggesa primo provider di servizi assicurativi per numero di sinistri gestiti in italia e anche le scelte di comunicazione che compiamo in azienda passano da una valutazione del comparto della cyber security soprattutto quando dobbiamo comunicare alle compagnie i nostri clienti la totale protezione dei dati sensibili e talvolta valutiamo anche il mezzo con cui comunichiamo comunichiamo con le nostre aziende clienti la comunicazione sul tema della cyber security per rimanere all'interno dei nostri confini nazionali non è ancora affidata o perlomeno non è espressa in maniera incisiva a un va de me come istituzionale mi si scusi per la semplificazione in termini un va de me come appunto capace di indirizzare i cittadini a una maggiore presa di coscienza sui rischi alla violazione dei dati personali ma va detto che la strategia nazionale di cyber sicurezza 2022 2026 redatto dalla cn presentata a maggio è un ottimo segnale in tal senso cittadini che con maggiore enfasi diventano il bersaglio preferito agli attacchi informatici se prima gli attacchi erano rivolti alle aziende ai dati di chi vi lavora adesso l'obiettivo si sposta verso i consumatori consumatori non ancora sufficientemente alfabetizzati sulle modalità di rapimento delle identità digitali sulle buone pratiche per evitare che accada non dico rapimento a caso prima di tutto perché si tratta di identità digitali che hanno una vita online una digital life in seconda istanza perché alla motivazione ideologica o politica oggi è sempre meno ideologica e sempre meno politica ci sono in campo dei mercenari quindi dicevo alla motivazione di un data breach si accompagna sempre più spesso la richiesta di un riscatto da qui viene appunto il termine anche ransomware con cui vengono chiamati quei malware che da soli secondo un report commissionato da sofos costituiscono il 75 per cento della minaccia informatica globale tornando quindi alla premessa principale ovvero sul basso grado di alfabetizzazione da parte degli italiani a riprova di questo basti pensare che il furto di le sfiltrazioni di identità digitali in buona parte dei casi avviene tramite phishing e smarrimento dei device il phishing ormai dovrebbe essere una pratica immediatamente riconoscibile nonostante la perfetta veste grafica che comunque camuffa le mail di phishing ma ancora non lo è se poi pensiamo allo smarrimento dei device lo scenario diventa ancora più inquietante spesso il telefono aziendale coincide col telefono personale ovvero sim aziendale sim personale convivono all'interno dello stesso vulnerabilissimo device in tempi più recenti a causa della pandemia e la diffusione dello smart working anche i computer personali che diventano i computer aziendali rappresentano un rischio computer personali all'interno dei quali spesso vengono immagazzinati per praticità alcuni documenti di lavoro talvolta importantissimi in questo senso lo smart working costituisce una gigantesca area di rischio se la crescita di questo endpoint non è sostenuta da reti protette anche per questo oltre ai sia esso occorre una compliance più estesa che coinvolga istituzioni aziende singoli individui una un'enorme filiera virtuosa mi si passi il termine si consideri che il primo recentissimo rapporto census sulla cyber security rileva che solo il 60 per cento poco meno del 60 per degli italiani conosce genericamente l'argomento cyber security e questo 60 per cento è costituito da giovani da persone con un elevato grado di istruzione quindi laureati imprenditori e dirigenti in italia settori più colpiti sono il finance insurance che storicamente è da sempre sotto attacco la pubblica amministrazione e crescono anche gli attacchi all'industria si pensi che il settore manufatturiero in proporzione per la crescita percentuale appunto che ha avuto negli attacchi risulta essere il settore più colpito questo perché banalmente alla spinta alla digitalizzazione non è corrisposta di pari passo l'individuazione di vulnerabilità dei software o un'adeguata educazione dei dipendenti oppure scelte sul cloud non proprio oculate basti pensare che molti molte aggressioni avvengono negli spazi comuni del cloud quindi dicevo i ransomware la conseguente richiesta di riscatto talvolta hanno provocato l'interruzione dell'attività o addirittura il rallentamento dei approvvigionamenti la cyber security è dispendiosa e questo non può non incidere sui prezzi di prodotti e servizi in ambito assicurativo il ventaglio di polize si amplia di giorno in giorno copre uno spettro che va dai dati biometrici ai fenomeni di cyberbullismo di revenge porn quindi si addentra nelle questioni in questioni individuali non sempre si tratta di soluzioni a basso costo ma diverranno polize con buona probabilità imprescindibili soprattutto per le aziende prima normalizzeremo certe pratiche prima diverranno di più ampia fruizione e in questo senso va detto che la comunità europea qui dobbiamo anche il più stringente regolamento al mondo a tutela della privacy dei suoi cittadini il gdpr spinge verso la creazione definizione di comportamenti di autotutela soggesa è pronta a iniziare a gestire i sinistri cyber in soggesa nell'ultimo triennio oltre a rinforzare la data protection la business continuity il disaster recovery ma vale la pena anche citare il fatto che i nostri tecnici sono certificati forti met abbiamo modificato di molto la nostra cyber posture e la postura rispetto alla sicurezza informatica dotandoci di procedure di assessment continui capaci di validare appunto la postura e la sicurezza dei nostri clienti abbiamo certamente anche adottato un approccio multidisciplinare che non solo accoppia sicurezza informatica e business ma che coinvolge a più livelli le nostre divisioni e le nostre unit spingendo verso una responsabilizzazione individuale perché come ripetiamo sempre in soggesa non è solo una questione di business ma anche di responsabilità e permettetemi di dire responsabilità sociale come recita il nostro motto responsabili di tutto responsabili di tutti e questa è una sicurezza che è una sicurezza